Il Ministro dell'Economia ha presentato mercoledì sera il budget per il 2020 e il Governo è pronto ad investire in vari settori per rilanciare l'economia. Pronto anche a un piano straordinario in caso di diffusione del coronavirus e chiusura delle attività, con aiuti verso chi perderà il lavoro, ma anche per i self-employed che potrebbero perdere i loro appalti. Verrà inoltre garantita la sick pay anche a chi è in quarantena senza sintomi. Anche l'erogazione dei benefit sarà accelerata e potrebbero essere bloccati i pagamenti delle tasse. 6 miliardi saranno destinati a NCS e continuerà a essere bloccato il prezzo della benzina, mentre 600 miliardi saranno destinati ai trasporti. La crescita del PIL è prevista all'1,1%, mentre l'inflazione dovrebbe crescere dell'1,8%.